Max Weber rifiuta il comprendere di Dilti come un accesso di psicologismo. Tutte le scienze, anche quelle storico-sociali, indagano le cause dei fenomeni attraverso ipotesi. Max Weber individua un metodo per rendere rigoroso le scienze storiche e introduce dei tipi ideali come strumenti di ricerca. Lo scienziato costruisce dei modelli idealtipici di un fenomeno da confrontare poi con la realtà effettiva durante la ricerca. Per inserire alle cause principali di un fenomeno, lo scienziato pensa a come sarebbe mutata la storia se una delle cause non si fosse verificata. Come già mostrato da Richard, il sociologo e lo storico scelgono quali fenomeni indagare in base ai riferimenti dei valori. Secondo Weber il riferimento dei valori non compromette la scientificità della ricerca, ma soltanto la scelta dei fenomeni. In tal caso lo scienziato non valuta, ma spiega. Secondo Weber infatti la scienza deve essere libera da valutazioni etiche, politiche e anche religiose. Nella sua opera più importante, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, l'autore mostra come una concezione religiosa, ovvero il calvinismo, sia stata in grado di determinare un fenomeno economico, cioè il capitalismo. Tale analisi rovescia la teoria marxiana. Secondo Weber la struttura economica non determina sempre la sovrastruttura. In questo caso è la religione, quindi la sovrastruttura a determinare l'economia e non viceversa. Tuttavia Weber non rinuncia a spiegare la storia in termini economici. Secondo Weber ogni cosa può essere dominata dalla ragione. Questo significa il disincantamento del mondo. Per risolvere qualsiasi problema sono sufficienti la ragione, la scienza e i mezzi tecnici. Appellarsi al Dio e alla religione, oppure ad altri ambiti di sapere, costituisce un sacrificio dell'intelligenza.